Ciao a tutti! Oggi volevo parlarvi di come registrare delle immagini con il programma Blender. Dunque, innanzitutto potete scegliere diversi tipi di file. Potrete registrare sia file immagini, come potete vedere qui, oppure file movie, quindi sono tendenzialmente dei video. Dopodiché vi consiglio di andare sotto l'ordine output e di cliccare qui da parte. Potete salvare il vostro file dove vorrete. Io mi trovo bene sul desktop, quindi registro sul desktop. E scrivere il nome. Dopodiché, accettare. Io torno indietro perché ho già fatto questa operazione. Eccoci qua. Dopodiché, quello che vi resta da fare è semplicemente cliccare Alt F3 e cliccare su questa icona. Grazie a tutti per avermi ascoltata e ci vediamo alla prossima volta. Questo era il primo tutorial, quindi nel caso ci fossero degli errori, vi chiedo scusa e cercherò di migliorare la qualità. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.